Per quanto riguarda questo genere che sto cercando di portare avanti, ovvero un'action comedy, ovviamente i riferimenti possono essere arma letale, erano un po' queste coppie all'asta schiacci improbabili di due improbabili eroi che però alla fine tra mille vicissi di utile con mille problemi ce la fanno. Ora faccio a sparruvarsi a porta da silenzio e vive un fuoco! Oh maverdo! Lascio! Lascio! Scusate liberate un fratto! Azione! Guardiamoci questo momento di silenzio! È una cosa costruita dall'anarassata con l'aspetto di una panda ma fuori di uno scialto! Scappa! 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 Grazie a tutti! La idea dell'attore è sofferenza. Ti ha frenato? Vai! Ad azione! Gridate il più possibile, muovetevi con me! come i oyata come i oyata